vorrei invitare qui con me il console generale della di svizzera a milano sabrina dalla fior con la quale abbiamo iniziato avete letto prego sabrina dalla fior un applauso anche a lei che crede su questo tema dell'innovazione della critica dell'arte abbiamo ipotizzato anche un percorso insieme di questo di cui questa sera è la prima puntata grazie 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 guarda è un grandissimo piacere per me prendere la parola dopo di te come sempre perfetta padrona di casa e portarvi e darvi il mio anch'io il mio saluto personale quindi benvenuti a questa come dicevi tu prima puntata di media guru sui sedation sui sedation frutto della collaborazione tra il consolato generale di svizzera e appunto mit sui sedation tre che dico tre 66 appuntamenti sei appuntamenti con altre tanti protagonisti protagonisti svizzeri tutti personaggi di spicco nel campo della creatività digitale del virtuale della dell'intelligenza artificiale dell'innovazione nel nel senso più largo del termine diciamo diamo il via oggi con gil job a sono stra felice anch'io merci bocù bravo che preso non avrebbe dovuto avere sì e poi non voglio svelare troppi troppi segreti spero di aver stuzzicato la vostra la vostra vostra curiosità al vostro interesse in ogni caso seguiteci sui social media del consolato di mit per scoprire poi i protagonisti che seguiranno nell'arco di tutto l'anno inizieremo poi o continueremo poi ad aprile maggio e poi in autunno le date esatte le scoprirete sui social media anche i luoghi perché noi andiamo siamo innovativi fino in fondo saremo qui al mit ma non solo saremo anche ospitati dalla house of switzerland in corso garibaldi un altro grande progetto svizzero che vi invito a scoprire ma oggi ci ci concentriamo su gil job a posso solo assicurarvi che la sticella questo effetto wow che vivremo stasera questa sticella valerà per tutti gli appuntamenti tutte le puntate che seguiranno grazie mille grazie sabrina per questo saluto per la collaborazione con loro con voi esploreremo partiamo con voi poi esploreremo andremo avanti anche in altri in altri contesti e scopriremo una svizzera che non voglio dire vi invidio molto al di là dei cliché però questo dell'al di là dei cliché è proprio un claim di mit mi auguro cioè siamo al di là dei cliché vogliamo guardare oltre a quello che ci sembra l'evidenza per tutti quindi complimenti perché avete delle storie bellissime da raccontare e le racconteremo insieme grazie grazie allora adesso è il momento per gil gil job ben è qua vieni beh io spendo solo due parole accogliamolo come san milano accogliere artisti che valgono e scusa grazie e due parole beh lo sapete che lui è un coreografo pluripremiato non sto a fare tutto l'elenco c'ho non so quanti fogli ed è un artista che io ho inseguito guardando anche grazie a claudio pratica il nostro direttore che ha me l'aveva già introdotto qualche anno fa poi lui è presissimo ha fatto ha realizzato dei progetti fantastici di coreografia di danza eccetera per arrivare ma ce lo racconta lui a occuparsi in una maniera veramente originale molto avanzata non voglio usare la parola innovativa che da un segnale per quanto mi riguarda importantissimo che è quello di progettare per questo mondo virtuale pensando al mondo reale in un continuo entrare uscire ma vedrete con che capacità creativa registica espressiva costruisce le sue le sue ricerche e progetta i suoi spettacoli quando oggi parliamo di performing arts non è una questione di performing arts presa documentata e portata dentro la realtà virtuale quello che ci interessa noi ci interessa scoprire nuovi linguaggi nuove forme di spettacolo dove probabilmente anche l'ibridazione gioca la sua parte però tutto questo ce lo racconta gil viene da poco è stato selezionato al sun dance festival con una un progetto di cui ci parlerà che cosmogoni se abbiamo in corso un po di idee abbiamo parlato ma non ancora finito perché lui lo dirà lui ma io conto di riportarlo qua con uno spettacolo quindi questo per voi una preview un'introduzione e andremo avanti ma ci ritorniamo sopra quindi adesso basta non parlo più passo la parola a gil perché ci porti nel suo mondo nel suo di nella sua dimensione creativa che è estremamente stimolante vedrete per tutti quelli anche se non sono artisti che vogliono capire meglio il mondo digitale grazie bene buonasera a tutti grazie mille da allora vi parlo in inglese questa questa sera scusate perché mio italiano è veramente arrugginito allora possiamo subito lanciare di quella regia la presentazione allora sono coreografo e c'è una parola che magari non utilizzo stasera la parola meta allora se cominciassi a farlo allora andrei a promuovere quello che adesso è un brand giusto quindi parliamo di continuum biodigitale è un concetto ovviamente che vi sto per spiegare che arriva da charlie frailau che appunto è colatore sun dance qual è l'idea il continuo biodigitale che cos'è beh vuol dire che in questo momento noi stiamo vivendo questa realtà adesso in questo momento ok lo spengo perché sento l'interprete ok allora viviamo già appunto questa questa realtà quindi noi entriamo usciamo al digitale ogni giorno io ho l'orologio connezzo ho uno schermo che sto guardando uso il computer spedisco file ovunque e poi adesso col covide abbiamo tutte e tutti imparato molto di più abbiamo fatto un salto in avanti in termini comunicativo digitali giusto quindi la cosa più interessante per me però come artista è che abbiamo tante porte che ci fanno entrare nel mondo digitale quando cominciamo a digitalizzare i suoni di video adesso i movimenti possiamo entrare in tanti modi possiamo fare una 3d una realtà virtuale possiamo creare anche la realtà aumentata la r possiamo anche comprendere anche quello che è un braccio come il robotico nel mondo digitale il digitale cioè ci permette fondamentalmente di trovare dei nuovi spazi quindi cosa faccio questa sera io mi descrivo innanzitutto come un esplodatore io infatti esplodo nuovi territori territori digitali per fare questo io utilizzo un certo linguaggio è il mio linguaggio cioè il linguaggio della coreografia apparentemente questo linguaggio come dire si inserisce molto bene anche nella realtà virtuale è quello che faccio vedere questa sera quando siete entrate avete ricevuto sicuramente questo supporto editato per il sundance dietro c'è un qr code se avete un iphone non ancora l'android potete scaricare come dire l'app appunto su quest'app trovata appunto questa è una app dire la realtà aumentata allora vediamo vi faccio vedere speriamo che funzioni in diretta vediamo con la luce ok ok vedete che guardate spero che ne abbiate uno con l'iphone vi divertite ci giocate e poi insomma potete mettere anche i danzatori dove volete in questo spazio in ogni caso a inizio presentazione vi parlo un po meglio anche di questo pezzo molto bene l'idea principale per me è creare un ecosistema digitale allora la svizzera è un paese molto piccolo e ancora più piccolo perché c'è la parte tedesca la parte francesa la parte italiano la parte italiana giustamente il ticino quindi non siamo un grande paese ma abbiamo comunque tante idee abbiamo anche tante possibilità e in questo momento in svizzera sono molti progetti digitali dappertutto una delle cose che vogliamo fare appunto è riunire quante più persone possibile a gineva pre creare un sistema di artisti digitali anche di creatori digitali che possono arrivare veramente da tanti diversi settori ora tutto questo proprio dal punto di vista delle arti dello spettacolo io sono appunto un artista coreografo e penso appunto che abbiamo insieme come dire questa capacità di come dire del tempo reale non nel senso noi siamo gli specialisti del tempo reale io sono qua che vi aspetto i tecnici maria ok quando però usciamo da questo luogo come dire siamo come dire tutti un pochino più più vecchi no nel senso che siamo quando usciamo abbiamo un oro due in più che questo è il tempo reale nel senso che passiamo il tempo insieme lo ripeto in tempo reale quando guardato un film non so grace kelly sarà bella per sempre anche se è morta ormai tanti anni fa quindi ripeto questo è un po è quello che è come dire stuzzica un po il mio interesse cioè riprodurre tutte queste opere ma lavorare anche in tempo reale questa abbastanza sfidante in termini di tecnologia ecco quello che faccio ho cominciato nel 1995 e faccio e facevo quel tempo solo danza contemporanea e quindi nuove tendenze insomma il cutting edge abbiamo creato portato nuovi elementi sul palco è qualcosa che faccio si è da tanto tempo era il 95 pensate poi alcuni anni dopo fatemi riflettere esattamente nel 2016 anzi magari un po prima ho cominciato ad avere un po di interesse anche appunto negli sistemi nei tool digitali non so se avete visto appunto il film pina di vin venders l'ho visto in 3d e mi ha meravigliato la cosa e mi sono detto ma è qualcosa di bellissimo che capisco questo è il volume del corpo e quindi voglio anch'io appunto non sono regista però ho capito lì i volumi il mio linguaggio riguarda lo spazio spazio tra le persone io creo dei significati lo faccio appunto distanziando corpi nello spazio creando relazioni appunto fra i corpi è così che creo significati io non sono un narratore non racconto delle storie io creo dei significati e al tempo stesso suggerisco delle idee che spero vi arrivino poi hai in mente tutto questo vedete mi permette lavorando di andare avanti ed entrare anche in tanti diversi campi settori le arti visive in questo caso mettiamo l'accento stasera sul mondo digitale per cui vi faccio vedere subito un breve video sul bombo ok allora l'utero è un 3d in questo caso abbiamo una possibilità anche di farlo vedere in 3d dunque è stata una collaborazione con franz treisle che è un famoso musicista svizzero anche la ferie è veramente molto nota come artista digitale e si è occupata di parti di questo video mentre ci stavo lavorando ho cominciato a scoprire anche la motion capture quindi quando quindi ho scoperto la mc la motion capture stato veramente veramente sconvolto non potevo crederci cioè quanto è possibile catturare velocemente facilmente un corpo nei suoi movimenti ci mettiamo appunto questi dispositivi di realtà virtuale e vediamola votare insomma vediamo come dire io vedevo me stesso come dire a ballare in dimensione reale con susanna era possibile muoversi e mi sono detto la cosa è straordinaria adesso io ci faccio un pezzo grazie a questa tecnologia abbiamo iniziato appunto a lavorare su questo via e appunto il nome di questa pièce prima di farvela vedere vi spiego un attimo quello che è il sistema motion capture qui avete due diversi tipi di sistemi quello che trovate la quello sistema ottico lassù in alto a destra avete delle videocamere agli infrarossi che mandano ovviamente una luce dei raggi all'infrarossi e poi abbiamo questi contrassegni come dire sul corpo come degli adesivi che appunto sono catturabili nello spazio quindi si riesce a creare una sorta di scheletro e poi attorno allo scheletro ci posso costruire un avatar questo sistema veramente di altissima tecnologia molto caro francamente è precisissimo quindi veramente ogni immagine come dire catturata ogni spazialità catturata è praticamente perfetta poi bisogna imparare anche utilizzarlo e sfruttarlo al meglio questo sistema invece si chiama sud nel senso che è fondamentalmente una serie di accelerometri che è molto simile ciò che nell'orologio ed è in questo modo che il sistema riesce quindi a creare il movimento di accelerazione di decelerazione molto pratico ce lo portiamo dappertutto non serve uno studio lo fate qui lo fate in esterno quindi vi divertite con la luce è appena meno preciso a qualche limite abbiamo anche degli altri sistemi a nostra disposizione ad esempio abbiamo il sistema come kinect che appunto si chiama anche poi cloud si tratta di fotogrammetria o videometria quindi fare tante foto e tante video che poi si accavallano si sovrappongono e generano quindi tridimensionalità quindi ripeto o non c'è una via di mezzo ecco o qualità molto molto basso per questa tecnologia spaziale e che vi ho appena spiegato in ogni caso possiamo catturare la realtà per cui io vedo proprio la mia maglietta che si sposta il mio corpo insomma è veramente straordinario il risultato delle tecnologie migliori sono quelle più più complesse allora quali si sia la società svedese che crea il sistema che vi ho appena spiegato quello più tecnologico su in alto a destra nella foto e si è lavorato per queste questa ps in un vero e proprio studio e adesso cominciamo anche dalle benvenute ad artisti che fanno sperimentazione la motion capture quindi catturare il movimento come tecnologia allora come dire lo studio ci costa molto no come affitto poi bisogna andare a ripulire tutti quanti questi dati di cattura delle immagini e questo è veramente un collo di bottiglia per l'artista cioè l'accesso a questa tecnologia è troppo caro bisognava creare uno spazio senza scopo di lucro in cui gli artisti fanno sperimentazione con il tempo necessario come fanno appunto in uno studio di danza ma insomma se chiaramente questo studio ci costa non lo so 45 mila euro al giorno poi bisogna andare a ripulire ogni singolo carattere più catturo mi costa 5 euro capite che insomma non lo so cioè spendo 500 euro per cento secondi che non è infattibile per molti artisti quindi noi vogliamo regalare tempo e soprattutto tempo di sperimentazione prima piessa eccola qui vi allora è una pièce in cui vedete le persone sono dotate appunto di questo zainetto hanno anche questi marcatori appunto sulle mani e anche sul casco e questo è l'avatar quindi è possibile vedere queste persone che appunto interagiscono e ci sono molte delle cose che accadono in questo momento siamo al centro dello spazio e attorno abbiamo questi danzatori o ballerini enormi interagiscono con loro quindi pensano di interagire invece tutto è pre registrato quindi francamente non c'è interazione abbiamo anche l'avatar appunto sulla sedia a rotelle per il pubblico allora questa è la classica situazione ripeto tradizionale classica in cui le persone come dire capivano come dire dove erano era come se stessero facendo visita a questi grossi come dire personaggi non guardavano ad esempio gli insetti per terra ma guardavano come dei turisti invisibili visitavano questi giganti ho dovuto trovare delle idee per fare insomma spostare queste persone cinque sono avete visto in altri spazi quindi è stata un esperienza innanzitutto veramente meravigliosa incredibile per il pubblico ma così come lo è stata per me la prima volta che ho provato il sistema cioè il fatto di vedere me stesso è un feeling che bisogna provare quindi allora digitale certo vuol dire interazione ma allora che cos'è l'interazione in questo caso l'interazione era fra i cinque spettatori cioè si dovevano parlare e in molti si chiedevano ma perché appunto ti sei messo uno specchio io voglio vedere me stesso ma no 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 non ce l'abbiamo messo perché dovete parlare con gli altri vi dovete descrivere a ma guarda come sono sono una donna sono un uomo sono di colore e noi non l'abbiamo scelto per loro quindi non si sa quale avatar vi capiti addosso e quindi abbiamo incentivato la discussione lo scambio fra le persone questa bella esperienza allora una pièce che è andata veramente benissimo abbiamo avuto tanto pubblico sono accadute tante cose come dire attorno a questa questa prima tentativa appunto di interazione per noi e noi facciamo appunto dei tour lo sapevamo bene come come fare durante il lockdown durante il covid insomma sono andate anche un po in tilt francamente a volte e quindi abbiamo detto nell'attesa visto che non si può andare nello studio e neanche fuori proviamo l'abbiamo provato quindi a creare i primi collegamenti a distanza quindi questa è susana appunto questa è casa mia sono messi queste tutte che contengono degli accelerometri siamo a friburgo nella parte germanofona siamo a 100 km da ginevra ci siamo inseriti in questo spazio tridimensionale da casa mia appunto e in questo caso abbiamo però un collegamento con chi era invece a ginevra quindi questo è stato effettivamente il primissimo esperimento e attenzione vi parlo di aprile maggio quindi quando il lontano fare di pensare iniziata metà marzo quindi già un paio di mesi dopo avevamo reagito in questo modo ci siamo detti bene molto interessante funziona ci siamo anche resi conto che era possibile come dire invitare qualsiasi sistema motion capture appunto in uno spazio tridimensionale questo ci ha aperto veramente un nuovo universo sono preparato neanche tanto complicato lo vedete appunto a destra in basso vedete anche come dire gli scheletri degli avatar nelle varie scene ecco gli avatar che abbiamo inserito dalla scena questi invece il motion capture originale del software abbiamo cominciato quindi a giocare per capire insomma di dare un senso a tutto questo allora vi faccio vedere anche un breve estratto di questo programma che sono caricato su arte che è un canale televisivo appunto è molto raro che un programma televisivo addirittura venga a scoprire qualcosa appunto di così creativo almeno per quanto riguarda le caratteristiche di arte sono venuti svizzera quindi a filmare una delle nostre performance e ci hanno regalato una trasmissione appunto sul digitale sulla danza mi son detto allora facciamo qualcosa a visto che non potevano venire da noi il la presentatrice silvia camarda anche lei è coreografa e lusten borghese è un'eccellente ballerina il punto è che lei dovesse appunto entrare nel mio sistema si sarebbe messa a ballare si sarebbe fatta vedere questa performance fatta di puro divertimento vi faccio vedere cosa abbiamo creato per lei allora molto felice dell'avatar che sta realizzando qui sotto avete il l'audio in francese era incinta e quindi aveva dovuto creare un avatar incinta attenzione alla realtà allora con voi la spesa donne tutto un set up ici qui permet di controllare in tempo reale e in diretto ci si passa quindi io posso trasferire con questo controllo l'alle e le canzone transmise direttamente a Genève è se che sarà funzioner c'è du mal a croire che io vi veramente mi ritrovare al cotto di Gilles e della danse suzana panna da stia quindi lei era nel salotto a luxemburgo ed eravamo appunto in studio noi eravamo appunto filmati se così posso studiare da diversi sistemi motion picture quindi ci siamo parlati e ci siamo detti bene penso non so se da maggio settembre comunque proprio nel momento sono delle più grandi difficoltà è stato veramente molto interessante fare questo abbiamo scoperto qualcosa di davvero nuovo poi torno un attimo indietro piccolo passo indietro perché appena dopo appunto vri quindi questo pezzo immersivo vi ho pensato alla r alla realtà aumentata ovvero fondamentalmente io porto lo spazio digitale della realtà o che è un po il contrario no quindi via rai il pubblico è dentro lo spazio digitale in questo caso invece come dire noi invitiamo i danzatori ballerini digitali all'interno del nostro mondo è stato un pezzo su appunto commissione appunto c'è stato un rinnovamento di questo edificio a lausanna realizzato negli anni 60 ho dimenticato il nome del realizzatore mi varrà in mente dopo l'architetto famosissima è veramente il padre di un altro architetto che è famoso adesso poco male allora veramente molto fisici di questa idea ci voleva appunto uno spettacolo un pezzo che non avesse un impatto sul sito guarda caso non c'era neanche molto budget perché doveva far tutto parte dei lavori di di strutturazione è stato appunto fatto un concorso abbiamo vinto noi col progetto magic window allora è una ps di realtà aumentata e si basa proprio sulla location abbiamo come dire delle mattonelle per terra le scansioniamo col telefono ed ecco che appare il la ballerina cosa c'è di specifico che si basa appunto solo location cioè non si spostano non vengono via da questa location e quindi li troviamo come dire il collegamento ma solo negli spazi di questo edificio questo è da strali se quello che ho fatto vedere anche un attimo prima ora guardate come è possibile associare eccomi qua con delle altre immagini e io faccio molti lavori appunto per i musei cioè metto i miei ballerini nei musei ovviamente in tante sale diverse in tante diverse ambientazioni questo invece è una pièce presentata al sun dance nel 2020 ricordo era febbraio direi e sapevo che così sono le prime notizie no che arrivavano dalla cina con i primi lockdown e ho dovuto cancellare preparato anche dei viaggi in cina che avevo già programmato è stato veramente un bel problema comunque quando sono tornati dal sun dance si è messa a lavorare appunto su questa opera febbraio 2020 lo ricordo bene quindi questo si chiama real time qui c'è un duo quindi ma ella e susanna ci stanno detti e bene allora adesso tutti questi esperimenti digitali e portiamoli su un palco quindi si tratta sempre del sistema motion capture sono davanti a degli schermi e qui vedete i risultati dei loro movimenti sugli schermi quello che vedete è veramente l'inizio di questo percorso ci è voluto un mese per arrivare a questo punto ci siamo fermati un mese e mezzo prima della propria apertura nel senso che e purtroppo abbiamo chiuso il progetto a causa dell'ortano perfetto scusate torno giusto indietro bene quindi questo era il progetto di che ho appena commentato guardate qui non guardavamo semplicemente il movimento e guardava in questo caso il sistema e soprattutto come fosse possibile interagire e quindi far interagire tra di loro i vari avatar e generare vari movimenti quindi hugo il nostro tecnico sta andando in giro con questo pezzo di legno che è una videocamera digitale fondamentalmente cioè fa video tracking noi utilizziamo questo sistema facilissimo da utilizzare come appunto videocamera c'è vedete susanne c'è ma è il proprio si scambiano guardate su uno schermo vedete susanna è un robot ma è l'altra e nell'altro video ci si scambiano i ruoli quindi è qui che abbiamo cominciato a scoprire che appunto era possibile avere non solo due ma non so 468 danzatori se io chiamo cambio l'avatar e cambio le direzioni il tutto poteva diventare più complicato ma insomma più interessante è stato un processo interessante anche questo ecco quindi come entrano in scena come escono dalla scena a un certo punto mi sono detto ma lo adesso che succede ho deciso anche di cancellare questo progetto e lasciarlo in in attesa in step by poi lavoravamo anche al tempo stesso con la come di è un teatro di ginevra verrete nuovissimo ci lavoriamo da due anni e quando appunto arrivati i covi siamo fermati anche qua l'idea era di modellizzare tutto l'edificio di metterci dentro dell'animazione quindi quando le persone visitano edificio non si sarebbero sentite sole abbiamo diverse pièce diversi prodotti diverse animazioni e questo appunto è la realtà virtuale ci siamo detti e bene potremmo utilizzare il sistema trasformarlo in multiutente certo facciamolo multiutente ci siamo detto però in quel momento chi sarebbe mai venuto qui arrivato qui dal resto del mondo non c'era il contesto giusto era tutto quanto chiusi chi si sarebbe mai messo un castro ci saremmo detti ci siamo detti vabbè fra un anno due anni tre anni insomma tutti saranno più collegati poi ripeto è arrivato il cobit qui abbiamo lavorato anche con michelle che arriverà appunto a parlare anche qui ci abbiamo lavorato è un progetto multiutente quindi ci siamo chiesti cosa ne pensi di questo no veramente piace molto ci hanno risposto perché appunto quest'anno faremo tutto digitale abbiamo cancellato tutto il reale insomma tutto il paese è chiuso tutto sarà online per cui tutti mi hanno detto insomma molti artisti e molti di quelli che sono adesso collaboratori hanno accettato i miei progetti abbiamo fatto vedere la demo a giugno e bisognava appunto far uscire la piesta a fine agosto poco tempo quindi però ce l'abbiamo fatto abbiamo fatto anche un'altra versione migliore quindi qui abbiamo appunto la psv art quindi le persone sono in realtà virtuale dentro lo spazio hanno quindi queste persone appunto vere reali in alcuni casi aveva rappresentato fino a 14 diversi paesi dentro la stessa sessione ed ecco qui i danzatori 3 in ginevra ce n'è una melbourne quella e vittoria e poi c'è dia che invece a bangalore in india quindi loro hanno delle appunto queste tutte non non eccezionali non si potevano muovere non sarebbero potute venire da noi quindi abbiamo spedito la tuta come dire in un pacco via postale e quindi abbiamo potuto collaborare con loro quindi abbiamo fatto tutto questo lavoro a distanza chiaramente c'era che la differenza come dire di orario perché abbiamo collaborato con gli indiani con gli australiani quindi abbiamo tre schermi all'interno dello stesso spazio abbiamo messo anche gli orologi per far vedere appunto i fusi orari un po come succede negli hotel internazionali questa la seconda parte del prodotto allora l'idea era la seguente cioè che le persone sarebbero arrivate dentro questo spazio questa stanza poi si apre la parte posteriore della stanza si vedono non lo so c'è un continuo si vede un grande giardino si continua 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 ricomincia il teatro si orienta nel teatro e li finisce è stato complicato perché quando siete spazi immersivo in realtà virtuale scegliete il punto di vista degli spettatori no l'oppettatore può andare ovunque non è come il cinema il cinema insomma io decido cosa voglio farvi vedere questo è il bello del cinema ok magari voglio fare un ingrandimento primo piano di maria lo faccio invece la realtà virtuale faccio quello che voglio vado avanti e vado indietro mi giro ripercorro lo stesso percorso insomma le situazioni veramente diversa quella della realtà virtuale parlate con una bella sfida perché ci siamo chiesti ma le persone appunto cosa faranno dove andranno che direzioni intraprenderanno noi facciamo arti dello spettacolo attiriamo l'attenzione succede qualcosa quindi guardiamo potete tranne dall'altra parte che succede qualcos'altro dall'altra parte siamo veramente abituati a questo ritmo nel tempo reale in modo tale che le persone possono seguire uno spettacolo o in generale la situazione poi ci siamo detti ma ci siamo bloccati qui dentro bisogna collegarsi con più persone e quindi abbiamo creato il progetto virtual pressing c'è stato molto supporto anche diretto e dagli dagli artisti e abbiamo avuto anche il progetto virtual crossing in questo virtual crossing l'idea era di collegare dei cluster dei gruppi di artisti digitali in questo caso siamo a buenos aires quindi loro hanno il kinex quindi un bel sistema appunto di motion capture e noi lavoravamo invece dallo studio in a ginevra con due performance che appunto erano a buenos aires questo è il secondo che abbiamo fatto invece con bc e dance università di melbourne in australia hanno un enorme studio motion picture picture quindi siamo diventati amici abbiamo collaborato con loro e praticamente non ci siamo mai mai incontrati ma abbiamo sempre collaborato qui in questo caso per due settimane di fila come lavorare a distanza ci si collega ogni giorno ciao come va poi appunto creare anche un pubblico no tutto questo è stato veramente entusiasmate ecco lo studio a ginevra vedete che abbiamo tanti monitor tutto attorno perché appunto dobbiamo secondo noi facendo così far capire aiutare anche i danzatori prima pensavo di fare una proiezione sull'edificio una sorta di video mapping lungo 100 metri a singapore ma di nuovo è arrivato il copido una settimana prima di singapore quindi ci ha detto beh insomma mi spiace tutte quante le performance all'aperto sono vietate e quindi dovete tornare il teatro la cosa mi ha fatto sorridere perché in svizzera erano chiusi anche i teatri e quindi è comunque abbiamo fatto un grosso sforzo abbiamo trovato il teatro ma ahimè solo con 50 persone all'interno dopodiché siamo andati a un festival invece a bucarest abbiamo fatto una performance a 10.000 chilometri dallo studio qui sono a singapore e poi appunto a bucarest a 2.000 chilometri presentiamo cosmogoni dallo studio di ginevra e poi magari ci potrebbe essere benissimo sono un travenio adeguata anche a tutti quanti questi nostri spettacoli c'è nel senso che noi facciamo la cosiddetta multi diffusione abbiamo tantissime possibilità a nostra disposizione talmente tante che non si sa da dove iniziare bene adesso allora vi faccio vedere queste immagine che adesso arriva è il progetto su cui stiamo lavorando sono veramente contento di questo progetto entusiasta un progetto molto molto particolare diverso dal solito fa riferimento a un illustratore svizzero che si chiama thomas hot fa noi chiamiamo graffiature è noto anche in italia perché è veramente un artista visual artist ma chiamiamolo pure illustratore però vedete a questa tecnica molto molto particolare appunto del graffio delle graffiature quindi ho detto ma se potessimo creare qualcosa in 3d questa tecnica sarebbe fantastico ebbene è molto molto preciso e non era molto convinto all'inizio ha fatto un po di sperimentazione di animazione all'inizio non molto convinto dei risultati quando invece ha visto ciò che si poteva fare a lavorare con la luce e come era possibile appunto graffiare digitalmente dove abbiamo cominciato appunto a fare questi disegni in digitale di nuovo qui siamo veramente all'inizio inizio della ricerca stavamo appunto scoprendo imparando svelare il sistema non avevamo appunto tutti quanti il video appunto delle graffiature che venivano realizzate perché altrimenti appunto abbiamo avuto qualcosa di non solo fastidioso dal punto di vista come dire del rumore e quindi abbiamo lavorato con lui per dire ci vorrebbe appunto una tecnica particolare visto che lui graffi in questo modo particolare serviva qualcosa di speciale e ci siamo riusciti vedete abbiamo convinto lui fa molti di questi questi disegni un po dark dei teschi è un po stile ruta 66 in questo suo universo quindi comincia guardate con questi questi crani quindi dal suo disegno tutto è trasformato in 3d e poi vede comincia a fare le famose graffiature per vedere un po che succede allora thomas ha cominciato lui direttamente appunto a fare questo esercizio di scratching cioè di graffiatura questo è incredibile guardate la luce il modo in cui lavora è contro intuitivo no perché appunto come dire più graffia e più da luce ok rimuove invece di aggiungere la luce quindi non solo appunto ha scoperto la sua tecnica appunto la graffiatura ma anche l'applicazione in digitale quindi è chiaro che insomma con digitale si può anche cancellare l'errore non si torna indietro invece nel mondo reale una volta fatta quella graffiatura è chiaro che nulla si può coprire questo riferimento invece una piccola avventura in un motel con un sacco di cose che accadono appunto in questo motel ci sono appunto persone di successo ci sono persone di grande in successo qui abbiamo agata e poi c'è appunto uno scambio di tanti oggetti e di azioni tra questi due personaggi ma qui appunto non tentativo una prova bene guardate ora per quanto riguarda appunto le immagini e anche le mie parole io direi di fermarmi qui però spero ci siano delle domande magari volete approfondire qualche elemento sono a disposizione ok attenzione sia dimenticato una cosa c'è un evento speciale appunto che è quello che vedrà come protagonista susanna allora come ho fatto a dimenticare scusate c'è una pièce veramente speciale abbiamo fatto della regione del giurà in montagna c'è un'ultima di che ci sono state ottene t'accaglia nei campi di area io gli riccio ci sono sposti che ci sono funzionare l'ultima di manca sono state che sia sempre l'ultima che quindi così è un'ultima che si è un'ultima che io è ormolli che può fare è un'ultima che si è un'ultima che di quando Grazie a tutti 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 Grazie a tutti